musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia mamma mia ragazzi oggi il video è particolarmente interessante ma dovete stare molto molto attenti a tutto quello che vi dirò beh ragazzi li state vedendo qui alla mia sinistra ragazzi due picconi esclusivissimi rarissimi su fortnite ringrazio ovviamente il nostro amico il mio amico nick 5 stelle per avermi dato l'idea con il suo video di riproporlo perché ragazzi i passaggi da fare sono tanti ma non sono difficili una volta imparati questi picconi ragazzi sono esclusivi di fortnite cinese quindi ragazzi se volete ottenerli anche sul vostro account dobbiamo pensare e ragionare in cinese non parlo di account principale momentaneamente parlo di account secondario mi raccomando ragazzoni ricordatevi anche questo quindi ragazzi cosa bisogna fare per poter ottenere questi due picconi intanto il primo piccone quello in alto sembra essere quello di alia non so se lo conoscete uno youtuber che ha 15 milioni di iscritti mentre l'altro piccone boh non lo so è un altro piccone molto molto figo per fare tutto questo ragazzi andiamo a vedere i procedimenti un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale si va ragazzi si va si va e si apre una finestra normalissima di google intanto io mi rimpicciolisco così almeno non vi do fastidio e cominciamo a parlarne insieme si apre una normalissima finestra di google bisogna ragazzi creare un account QQ vi spiego come si fa allora si va nel sito zc.qq.com ovviamente trovate poi il link in descrizione questo ragazzi è un sito normalissimo QQ sarebbe il whatsapp cinese ok si inserisce qui un nickname culo allegro per essere ci si mette una password boh password per dire password 1234 per dire qui ragazzi bisogna inserire il nostro numero telefonico ovviamente noi non abbiamo il prefisso più 86 abbiamo il prefisso più 39 quindi premendo ragazzi modificando più 39 troviamo Italia e qua mettiamo il numero 166 166 186 cioè voi dovete mettere il vostro numero vero ragazzi io sto mettendo un numero farlocco premendo sul tasto send ci arriverà nel giro di pochissimi secondi sul cellulare un codice di 6 cifre che andremo a inserire qua mettiamo che sia 1 2 3 4 5 e 6 una volta inserito il codice premiamo questo tasto che è registrati premendo questo tasto circa questa aspettate che voi non state vedendo il cursore un momento voglio farvi vedere il cursore in modo che capite meglio quello che sto dicendo ecco qua premendo il tasto sign up now qui in mezzo ragazzi apparirà un bel codice lungo così lo prendete ve lo copiate da qualche parte con la matita con il block notice con quello che volete vi serve vi serve qui abbiamo finito ragazzi a questo punto bisogna entrare come vedete alle mie spalle nel secondo link sempre in descrizione anche questo come state vedendo il sito si chiama huia.com ed è un sito cinese questa sezione del sito riguarda proprio fortnite avete visto ragazzi qua sopra di me c'è il piccone che si può ottenere in tre semplicissimi passaggi la prima cosa da fare cos'è huia innanzitutto è un sito tipo twitch raccoglie gli streaming cinesi di tutti i videogiochi che ci sono questa è la sezione appunto dedicata a fortnite bisogna registrarsi sul sito semplicissimo ragazzi si clicca qua in alto a destra vedete clicchiamo qui dobbiamo fare la registrazione questa volta bisogna scorrere fino in fondo per andare a cercare il più 39 che è il nostro prefisso nazionale andiamo fino in fondo poi risaliamo eccolo qui più 39 inseriamo come abbiamo già fatto ragazzi prima il nostro il vostro vero numero di telefono una volta che l'avete inserito basta che fate un click sopra qui e premete questo bottone una volta che voi premete questo bottone automaticamente vi arriverà sul telefono un codice di sei cifre se non ricordo male questo codice lo inseriamo qua appunto mettiamo che il codice sia 123456 per dire e qui ci mettiamo la password ok quella che volete voi ragazzi una volta premuto poi l'ultimo tasto faremo automaticamente loggeremo automaticamente nel sito loggando lo capirete perché qua in alto non ci sarà più la forma dell'omino ma ci sarà un logo bianco rotondo a questo punto ragazzi abbiamo i tre step da fare step numero uno si clicca su questo link ragazzi ok come vedete viene aperta la pagina degli streaming attuali dedicati a fortnite dei nostri amici cincullà andiamo a vedere ragazzi per caso il secondo a caso ragazzi questo è uno streaming del tipo che sta appunto facendo lo mettiamo un attimo in pausa che non ci interessa dobbiamo molto più interessante invece cliccare su questo link vedete la freccia qua in basso dove c'è il logo di fortnite speciale cliccando su questo link veniamo reindirizzati nuovamente nella pagina di huya e come vedete lo step numero uno è completato abbiamo il logo dello streamer in questo modo nello step numero due voi sarete loggati quindi qui avrete una barra bianca dove dovrete inserire il codice quello che vi ho fatto scrivere prima a matita che vi ha dato qq nella registrazione lo inseriamo associamo l'account qq al sito huya punto com e lo step numero due è fatto per lo step numero tre ragazzi invece ci vuole un pochettino più di pazienza dobbiamo aprire una nuova pagina google e andare nel sito we game punto com il sito we game punto com ragazzi è praticamente il sito ufficiale di tencent semplicemente dovremo cliccare su questo bottone giallo per scaricare il launcher di we game io l'ho già scaricato quindi non c'è non c'è nessun problema vi faccio vedere direttamente we game che si apre un attimo che sta caricando poi ve lo faccio vedere direttamente nello sfondo del desktop ecco qua è la finestra di we game qua abbiamo un attimo il mio nome utente vediamo se gli inserisco vediamo se mi logga adesso non me lo ricordo lui sta loggando ovviamente la password è sbagliata miseriaccia la miseriaccia la porcaccia la miseriaccia un momento solo perché tu fai le cose e le fai per provare poi giustamente quando ti serve è un disastro vediamo se la password è questa vediamo si si ha loggato perfetto perfetto una volta che voi avete loggato ragazzi ecco qui la pagina principale di we game il launcher principale di we game come vedete ci sono un sacco di giochi che hanno loro noi ragazzi dobbiamo cercare fortnite quindi digitiamo in alto fortnite ci clicchiamo sopra lui fa la ricerca we game è come se fosse il play store in poche parole però come se fosse steam per noi ecco qua ragazzi lui apre fortnite ci clicchiamo sopra e da qui ragazzi bisogna scaricare il fortnite cinese ragazzi sono 10 giga di download è tutto il gioco però in cinese ragazzi una volta che abbiamo scaricato il gioco e siamo entrati con il nostro secondo account quello vi dicevo ragazzi cinese non vi posso dire come si fa ma vi dico solo cercate i vpn ragazzi non vi posso dire non vi posso fare vedere su youtube come si fa ad entrare ma c'è google potete capirlo benissimo dobbiamo fare lo step numero 3 lo step numero 3 ragazzi ci dice questo vuol dire che dobbiamo loggare per 3 giorni in fortnite cinese per 30 minuti quindi rimaniamo 30 minuti in lobby dobbiamo farlo per 3 giorni quello che ci chiede invece questo è di guardare per un'ora per 60 minuti lo stream dello streamer che abbiamo deciso di associare al nostro profilo huia in questo modo in questo caso era questo lo stream se avete tenuto aperta la finestra è lui o vi consiglio comunque di riaprirlo senza problemi tanto basta che poi ci cliccate qui vi riporta alla pagina dello streamer una volta che avremo fatto ragazzi questo il primo giorno quando siamo rimasti 30 minuti su fortnite per la prima volta riscattiamo questo il secondo giorno riscatteremo questo e il terzo giorno avremo ragazzi la possibilità di riscattare il piccone specialissimo arrow di fortnite io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto vi spiegherò nel prossimo video come si potrà prendere il secondo piccone esclusivo mi raccomando provate a farlo affrettatevi perché manca pochissimo prima che scada l'offerta il 16 settembre scadrà l'offerta vi mando un abbraccio grande un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live dalle 14 alle 20 e 30 ciao ciao